Buongiorno, buona Domenica delle Palme, buona Settimana Autentica a tutti voi. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che il Signore Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a Lui gridando «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d'Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina!» I suoi discepoli al momento non compresero queste cose, «Ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di Lui erano state scritte queste cose e che a Lui essi le avevano fatte». Parola del Signore. Ecco, oggi siamo giunti alla Domenica delle Palme. Con questa Domenica comincia la Settimana Santa, quella che in Erita Ambrosiana è chiamata anche Settimana Autentica, perché è il modello di ogni settimana dell'anno. Il cammino di Gesù giunge a Gerusalemme e Cristo entra a Gerusalemme acclamato come il Re Messia. I gesti che gli compie sono gesti ispirati da Dio, certo, ma sono gesti che sono compimento delle antiche promesse, delle antiche scritture. Gesù trova un asino, sceglie un asinello perché entra a Gerusalemme come Re di Pace. Le folle gridano «Osanna, benedetto colui che viene!» con le parole del Salmo antico, del Salmo 117, e riconoscono che Lui è il Re, il Messia annunciato dai secoli antichi, dai profeti. I discepoli sono pieni di gioia davanti a questo agitarsi di palme, d'ulivi, e cantano e gridano «Osanna!» ma non comprendono ancora. Quando Gesù sarà glorificato, dice l'Evangelista, compresero. Cosa vuol dire che Gesù fu glorificato? Glorificazione del Signore e la Sua Ressurrezione, ma il cammino della glorificazione passa attraverso la croce. Gesù infatti dirà «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Settimana santa, settimana di passione. Non è un caso che nella Messa del giorno, altro formulario della Messa ambrosiana, si legga dell'unzione di Betania, quando appunto Maria a Betania unge i piedi di Gesù, comprendendo che egli sta per andare a dar la vita. Non è un caso che in questa domenica, nel rito romano, si legga la passione, perché è attraverso la passione che il Signore giunse alla gloria. Non gli osannadi un momento, ma i canti degli angeli che accolgono colui che ha, che ci ha tanto amato, perché ha donato la vita per noi, accettando gli sputi, gli insulti, la morte di croce. Nel suo sangue noi siamo salvati. Questa è la via del cristiano, la via della redenzione, che passa attraverso il Calvario. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa, e viviamo con generosità e con molta preghiera questi giorni santi. Buona Domenica!